Buongiorno a tutti, ultima conferenza stampa del 2023 e quindi la iniziamo con un commento del general manager Alessandro Santoro. Volevo spiegare un saluto a tutti, a chi è qui e a chi ci ascolta. Sono qui per essere accanto fisicamente al nostro allenatore e alla nostra squadra per dare un segnale, se mai ce ne fosse bisogno di assoluta vicinanza in un momento in cui credo ci sia bisogno di essere compatti ed uniti. Ho voluto proprio essere qui accanto a lui proprio per questo motivo, ma non ci sono solo io, c'è tutta una società, tutti coloro che dietro le quinte lavorano perché le cose funzionino al meglio e quindi mi faceva piacere proprio dare questo segnale nell'ultima conferenza stampa che precede il nuovo anno. Per cui grazie e buon lavoro, in bocca al lupo e buon lavoro al nostro coach Davis Cagnardi. Buongiorno coach, veniamo alla partita di sabato, Adesio arriva all'Urania, una sfida molto importante per la classifica perché si affrontano la seconda e la quarta del Girone Verde. Che partita si aspetta? Sicuramente arriva una squadra che non scopriamo oggi essere una squadra di talento offensivo, una squadra che esprime anche una buona pallacanestro, con un nucleo storico che si porta dietro da tempo, con lo stesso allenatore, una squadra performante, verranno a casa nostra, in un palazzetto che sicuramente ci spingerà e ci aiuterà. Noi ci stiamo preparando per offrire una prestazione solida, continua nei 40 minuti, sicuramente dovremo attenzionarci molto su quelli che sono i loro punti di forza a livello offensivo, sono una squadra con ottime percentuali da tre punti, con tanti giocatori che possono fare la partita con quella precisa caratteristica, quindi sarà una partita sicuramente che dovremo giocare con grande attenzione. Buongiorno coach, come stanno tutti i giocatori? I giocatori e un mini bilancio del 2023 di Cagnardi? Allora, i giocatori abbiamo in questo momento Bars, che dopo la scavigliata contro Trapani non si è ancora allenato, e stiamo cercando di capire se riusciremo a metterlo in campo per domenica, però la decisione sarà sabato mattina. Bucarelli dopo la partita con Trapani ha sofferto un pochettino in questa settimana, ieri un po' si è allenato, oggi vediamo di fargli fare ancora qualcosina. Anche per lui sappiamo che sarà della partita, perché assolutamente il ragazzo vuole esserci, però non sarà al meglio. Per quanto riguarda gli altri, compatibilmente con le situazioni di Cesana che in recupero, direi che stanno tutti abbastanza bene. Per quanto riguarda la mia stagione, è un momento questo dove la stagione agonistica sportiva non va di pari passo con il calendario, quindi è vero che è la fine dell'anno, la fine del 2023, però siamo in piena bagarre, in un momento importante del campionato, non per sottrarmi alla tua domanda, però non è il momento adesso di fare bilanci, è una cosa che faremo più avanti. Coach, vi siete allenati a Natale, vi siete allenati a Santo Stefano, non avete mollato il colpo. La partita di Trapani, come tu hai visto i giocatori, ha lasciato delle scorie? Ha lasciato l'amarezza di un risultato che poteva essere diverso, ci ha fatto capire che non siamo lontani, anche per come ci siamo presentati alla partita, non al meglio contro una squadra che invece riusciva a esprimere tutti i propri cavalli nel motore, ci ha fatto capire che non siamo lontani, ma ci ha fatto anche capire che non siamo ancora a quel livello, per tanti motivi, quindi c'è amarezza perché alla fine il risultato comunque prescinde da tutte le analisi, quando si gioca una partita giocata bene o male, bisogna provare a vincere, a portarla a casa, e poi le analisi sono successive, quindi questa cosa qua un pochettino ci ha scosso, ma ci ha scosso, voglio sperare chiaramente nel modo giusto. I ragazzi si stanno allenando bene, con grande attenzione, con grande dedizione, con energia, quindi vogliamo proprio entrare in campo con Milano e fare la nostra migliore partita. Tu sei abituato non solo a difendere i tuoi giocatori, ci mancherebbe altro, ma a valutare complessivamente il rendimento della tua squadra. Non trovi che ci sono alcuni elementi, inutile stare a fare nomi, che in questo momento o nelle ultime partite hanno giocato sotto livello? Penso di sì, penso che questo sia anche il risultato dei nostri primi due mesi e mezzo di campionato, perché abbiamo avuto ragazzi che si sono spremuti per la causa, sono state tantissime le partite in cui giocando in sei sono riusciti a tenere e a vincere anche buone partite, nonostante le poche rotazioni, ci sono state partite in cui girandoci dietro in panchina c'erano i vari meroni, i clerici, i tarallo, che per fortuna c'erano, ma che chiaramente non potevano permetterci delle rotazioni durante le partite, e quindi questo un pochettino adesso lo andiamo pagando, abbiamo bisogno che i rientranti ci diano questo tipo di energia, non solo fisica ma anche nervosa, in modo poi da continuare a lavorare per pareggiare un po' la condizione atletica, perché in questo momento il nostro vero problema è la disomogeneità a livello atletico, abbiamo giocatori spremuti, giocatori rientranti, qualcuno che sta anche bene, dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello, ma solo il lavoro ci aiuterà a fare questo. Buongiorno coach, La partita contro l'Uragna è diversa da quella dell'andata, perché l'Uragna ha inserito un giocatore straniero, fino ad ora non aveva mai giocato, ecco dove si deciderà la partita secondo lei? Sotto i tabelloni o chiudendo molto l'arco, visto che loro sono molto bravi nel tiro da tre punti? Sì, è rientrato Beverly, che per la categoria è un ottimo giocatore, da valutarne comunque le condizioni, perché quando parliamo dei nostri rientranti, che possono essere in difficoltà, stessa cosa vale per gli altri, sicuramente è un giocatore che gli dà dimensione interna notevole, sia offensiva che difensiva, però credo che al di là di questo, che tutto sommato può anche essere un aspetto che ci aiuta nell'avere più equilibrio difensivo, la loro forza sia nell'avere tanti giocatori capaci di fare male a tiro da tre punti. Ecco, coach, volevo chiederti una cosa, questa disomogeneità, come hai appena detto tu, atletica, questo comunque dover sempre fare i conti con qualche assenza, tu in questo momento la giudichi un valore aggiunto, perché comunque la squadra è riuscita a tamponare, a vincere anche in condizioni, oppure sta cominciando a diventare un po' un peso? Allora, sì, pertinente nel senso che, fino adesso questo, non riuscire a essere al completo, comunque ci ha permesso di tirare fuori dalla nostra squadra, dai nostri giocatori, una capacità di reazione notevole, perché al netto dei passi falsi abbiamo avuto tanti momenti di reazione, sia all'interno delle singole partite che delle settimane stesse tra una partita e l'altra, e questo ha dimostrato che abbiamo una squadra con dei giocatori che hanno personalità e carattere, è chiaro che alla lunga ci sta impedendo di trovare, diciamo così, degli equilibri, un feeling tra di loro, degli equilibri, degli automatismi che comunque arriveranno, ma che in questo momento ancora un pochettino sono più indietro rispetto a quelle che erano le nostre aspettative e il nostro auspicio, questo sicuramente. Buongiorno coach, dando un'occhiata alle statistiche sulla sconfitta di Trapani, balsano all'occhio soprattutto le statistiche dal punto di vista del tiro da tre e soprattutto il rimbalzo, secondo lei questo può essere un campanello d'allarme per i prossimi mesi o è un aspetto ulteriore su cui poter lavorare? No, allora, i percentuali da tre ad oggi prima della partita con Trapani noi eravamo la prima squadra del nostro girone per percentuali da tre e la seconda per percentuali da due perché comunque diciamo così che l'efficienza offensiva vuoi per talento individuale, vuoi per capacità dei giocatori di condividere è sempre stata molto importante. Abbiamo trovato una partita storta, abbiamo trovato una partita storta di due giocatori ai quali non si può dire niente, parlo di Moraschini e Ike al tiro da tre è una cosa che può capitare è una cosa che sicuramente ci ha penalizzato oltremodo in una partita del genere con un punteggio così basso e con uno scarto così minimo che si è creato solo nell'ultimo minuto di gioco però insomma non lo vedo come un problema lo vedo come una giornata storta al tiro. Per quanto riguarda i rimbalzi diciamo così fa un po' parte delle nostre caratteristiche nel secondo tempo con Trapani abbiamo lottato molto bene di squadra siamo riusciti a parigiare la lotta al rimbalzi contro una squadra estremamente fisica e performante da questo punto di vista quindi voglio sperare che questo sia insomma un primo passo per riuscire a gestire la situazione dei rimbalzi come squadra non avendo comunque noi diciamo così un giocatore deputato a quel ruolo dove rispetto ai compagni viene meglio insomma la cattura dei rimbalzi. Ancora una domanda coach in un processo di maturazione come quello che sta facendo la tua squadra anche perché va riconosciuto questa squadra non è mai riuscita ad allenarsi al completo dall'inizio della stagione quindi il percorso di maturazione risente anche di questo aspetto partite come quella di Trapani o comunque match delicati come appunto quello di Trapani quanto incidono anche poi nella resa complessiva e parlo a questo punto delle statistiche ma certo allora detto che la partita di Trapani adesso deve essere una cosa dalla quale attingiamo ma dobbiamo mettercela dietro è chiaro che quando tu giochi contro una squadra di quel livello stiamo parlando di una partita dove noi siamo stati molto vicini a loro ci è mancato veramente qualche dettaglio importantissimo ma si parla di dettagli il fatto di avere una quadratura completa e quindi avere anche delle abitudini sia nelle rotazioni che nelle situazioni tecniche può aiutare però questo è tutto vero io per primo in quanto allenatore posso soffrire il fatto di non avere una continuità di lavoro però anche una cosa sulla quale non possiamo permetterci di stare troppo i giocatori che abbiamo a disposizione bastano e devono bastare per poter vincere le partite e sarebbero dovuti bastare anche per vincere la partita di Trapani così non è stato per demerito nostro ma anche per molta bravura degli avversari perché le due bombe di Imbrò sul finale sono state due bombe di un giocatore veramente con personalità e qualità balistiche soprattutto la seconda raccolta da terra e quindi diciamo così c'è anche merito degli avversari oltre che alle nostre difficoltà che comunque sono oggettive ma sulle quali non dobbiamo stare troppo urania e poi penso già anche in prospettiva anche a Torino è vero che si pensa alla partita per volta però è talmente vicina Torino che in casa non vince mai vince sempre vi ha raggiunti insomma c'è anche un po' di preoccupazione per una classifica che no a fine della regolarsis insomma della prima fase conterà conterà avere una buona classifica un primo o un secondo posto e il primo ovviamente mi sembra un sogno comunque un secondo posto da difendere per il discorso della Coppa Italia insomma ci pensate anche a questo discorso ma certo ci pensiamo cioè allora siamo una squadra ambiziosa è chiaro che l'obiettivo è quello di arrivare secondi non è scontato non è facile Torino è l'unica squadra nel nostro girone non aver mai perso in casa nel frattempo abbiamo una partita insidiosa e difficile contro una squadra così talentuosa come Milano però ecco la parola perdonami la parola preoccupazione la sto sentendo troppo cioè non possiamo vivere in un ambiente preoccupato non è la mentalità giusta per una società e una squadra che hanno ambizione anche laddove si possa sbagliare o perdere delle partite non voglio essere troppo generalista e dire che fa parte del gioco fa parte dello sport bisogna provare sempre a vincere quando si perde bisogna ottenere il meglio dalla sconfitta bisogna essere determinati si può essere arrabbiati però non bisogna essere preoccupati assolutamente è un modo di vedere sbagliato ecco dal quale mi voglio dissociare in tutti i modi ci sono tante emozioni che possono attraversarci ma non certo la preoccupazione e mi dispiace se intorno a noi qualcuno si possa sentire preoccupato preferisco averli arrabbiati che non preoccupati ultima mia domanda Sandro dall'altro della tua esperienza le tue favorite oltre a Cantù per questo campionato ce ne sono tante ce ne sono tante e bisogna sempre fare i conti anche con con le squadre dell'altro girone adesso noi trascuriamo l'importanza che può avere la seconda fase della stagione dove le prime del nostro girone incontreranno le prime dell'altro e tra l'altro nella seconda fase dove si fanno i giochi anche per per stare nella categoria ognuno troverà troverà difficoltà in ogni campo quindi dobbiamo pensare momento dopo momento considerando che la stagione è lunghissima di contendenti ce ne sono tantissime quest'anno ma dobbiamo guardare come diceva come diceva il coach alla sostanza più che alla fumosità del momento dall'altra parte abbiamo Bologna Udine Trieste Forlì Verona e magari qualche outsider che verrà fuori nella seconda nella seconda fase da questa parte comunque ci siamo noi c'è Trapani Torino Treviglio che adesso in difficoltà ma sicuramente verrà fuori nuovamente secondo me c'è c'è tanto ancora da fare ma bisogna guardare veramente con assoluto ottimismo a quello che ci aspetta già da da sabato prossimo pensare una volta senza andare troppo in là con la fantasia ma siamo determinati e convinti di poter far bene anche avendo delle difficoltà questo è la storia di questo dello sport in generale ma è la storia della palla canestro dove il tasso di imprevedibilità è certamente molto più ampio che in altri sport e questo sia nel bene che nel male ma abbiamo assoluta convinzione e soprattutto bisogna avere fiducia se manca la fiducia che deve essere una fiducia reciproca e a tutti i livelli forse è la fiducia che elimina la preoccupazione questo questo è il nostro è il nostro modo di dover affrontare per affrontare questo periodo e i periodi che verranno ma un passo per volta quindi siamo molto fiduciosi e ottimisti soprattutto di dover di dover Grazie a tutti